sta caricando buongiorno buongiorno siamo ecco mondo di rimini la fiera che si tiene ogni anno sulle tecnologie ambientalmente sostenibili sono allo stand del ministero dell'istruzione ricordo a tutti che è stato aperto il bando la settimana scorsa che trovando è aperto fino a metà novembre per cui mi raccomando avete tempo fino a metà novembre andando sul sito del ministero dell'istruzione alla sezione rigenerazione scuola ci sono 25 mila euro per ciascun istituto scolastico che volesse implementare dei progetti di riqualificazione per la transizione ecologica quindi 25 mila euro per istituto scolastico il bando è aperto approfittatene con questi soldi potete fare dei corsi di essenzializzazione potete fare tutta una serie di interventi provate tutte le specifiche appunto nel sito è un'opportunità a disposizione per le scuole ciascuno di noi deve fare la sua parte per la transizione ecologica le scuole sono importantissime per cui mi raccomando avete tempo per partecipare al bando fino a metà novembre titolo ai vostri dirigenti scolastici e partecipate grazie e buona giornata a tutti